Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video Oggi siamo tornati a registrare all'aperto un po' perché ho i lavori a casa e quindi sarebbe stato impossibile ma anche per sfruttare questa bellissima giornata di fine settembre che insomma ancora ci sta permettendo di stare all'aperto in maniera molto piacevole e quindi siamo di nuovo qui Oggi sono qui per parlarvi di un libro bellissimo che ho letto negli ultimi giorni e del quale volevo parlare anche a voi perché credo che lanci un messaggio molto bello e soprattutto molto efficace Prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video e se non lo fate già seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza Cominciamo! Il libro del quale vi parlo è The Magic di Rhonda Birn, credo si dica Comunque questa autrice è molto famosa perché ha scritto il libro The Secret Da questo libro è stato tratto anche un documentario Comunque se cercate su YouTube trovate tanti video che parlano proprio di questo ed è un libro che ha avuto tantissimo successo, lei ha venduto milioni di copie in tutto il mondo Nel suo primo libro, The Secret, racconta della legge dell'attrazione Non starò qui a dilungarmi su questa legge nella quale io credo molto perché ho visto gli effetti benefici che ha portato nella mia vita Perché vorrei dedicare un video apposito a questo argomento Fatto sta comunque che questo libro ha come vi ho detto riscosso tanto successo e poi lei ha scritto anche The Magic Questo libro in realtà è incentrato sulla gratitudine ed è questo l'argomento di oggi Perché questo libro effettivamente ha portato degli effetti molto positivi nella mia vita Innanzitutto ho comprato il libro per il maritino perché credevo avesse bisogno di una lettura di crescita personale che gli permettesse di vedere la vita in maniera un po' più positiva Alla fine però lui sta leggendo altri libri, questo era rimasto sullo scaffale e ho deciso di leggerlo io ed è stata veramente una piacevole sorpresa Ne ho parlato anche nell'ultima newsletter che ho inviato Invio una newsletter ogni due settimane Quindi se non siete ancora iscritti e avete piacere di ricevere delle mail dove parlo di crescita personale di riflessioni sulla sostenibilità o semplicemente qualcosa che mi ha fatta riflettere durante le ultime settimane potete farlo dal mio sito www.martinabelli.it Trovate il link in descrizione e già nella home page trovate il pop up per iscrivervi alla newsletter Chiusa questa parentesi torniamo a parlare del libro Il libro è stato una sorpresa perché in realtà non si tratta soltanto di un libro di teoria Ma ci sono ben 28 esercizi da fare per 28 giorni Una sola regola, essere costanti Quindi già dall'inizio ci viene detto non saltate neppure un giorno Questo perché? Perché semplicemente la nostra mente si deve abituare ad essere grata per ciò che vive, ciò che ha, ciò che riceverà Però se non lo facciamo tutti i giorni difficilmente per la nostra mente diventerà un'abitudine e difficilmente sarà facile per noi e scontato farlo per tutto il resto dei giorni della nostra vita Il libro come vi ho detto si divide in 28 esercizi che prendono pochissimi minuti al giorno Ci sono solo due esercizi da fare tutti i giorni Il primo è quello di elencare ogni mattina appena svegli 10 cose per le quali siamo grati Sembrano tante ma in realtà con l'andare del tempo vi renderete conto che è facilissimo trovare 10 cose per le quali provare gratitudine Perché possono essere anche le più piccole Per esempio essere grati per il senso della vista che vi permette di vedere tutto il mondo che vi circonda Quindi non bisogna essere grati solo delle grandi cose che accadono nella vita ma anche delle piccolissime cose della nostra quotidianità Io vi dico che questo esercizio lo faccio in macchina ogni mattina mentre vado al lavoro Ho all'incirca 25-30 minuti di macchina e nei primi 5 minuti faccio questo esercizio Bisogna elencare 10 motivi per i quali essere grati con la motivazione e alla fine della frase ripetere per 3 volte Grazie, grazie, grazie È diventato un esercizio talmente semplice e talmente automatico che lo faccio molto volentieri ogni mattina Il secondo esercizio da fare ogni giorno è quello di scegliere un sassolino, una pietra una cosa semplicissima che trovate anche in giardino che magari avete già in casa L'importante è che sia piccola, facile da tenere in mano e senza spigoli quindi un po' arrotondata e prenderla ogni sera, quindi tenerla sul comodino prenderla ogni sera e pensare alla cosa più bella che è successa durante la giornata appena trascorsa e dire la parola grazie Lo sapete qual è il vero obiettivo di questo esercizio? non è ricordare la cosa più bella della giornata il fatto è che nel momento in cui cercate di ricordare quella vi vengono in mente tutte le cose belle della giornata perché dovete averle tutte davanti agli occhi per poter scegliere quella migliore e quindi questo vi permette di andare a letto con un pensiero bellissimo tutto ciò che è di bello vi è accaduto nel giorno appena trascorso Oltre a questi due esercizi da fare ogni giorno che come avete visto sono non semplici di più abbiamo tutta una serie di altri esercizi sempre molto brevi dedicati a un certo ambito della nostra vita i vari campi in cui sperimentare la gratitudine sono le relazioni, il denaro, il lavoro, la salute e i desideri personali quindi ogni giorno c'è un esercizio legato ad uno di questi argomenti vi faccio alcuni esempi per le relazioni ho trovato molto interessante dover elencare 10 lati positivi quindi 10 cose di cui essere grato alla persona che in quel momento o in un momento passato vi ha in qualche maniera fatti star male o con il quale non avete un buon rapporto questo ci spinge a ricercare anche nelle situazioni negative qualcosa di positivo perché possiamo aver imparato qualcosa, possiamo aver preso delle decisioni che dopo ci hanno portato a qualcosa di buono oppure possiamo semplicemente ricordare che cosa ci piaceva di quella persona prima che tutto andasse in rovina diciamo oppure per il denaro c'è un esercizio dedicato al ringraziare per tutto il denaro che abbiamo ricevuto durante la nostra vita in maniera gratuita quindi tutto ciò che abbiamo ricevuto da quando siamo nati fino a quando non abbiamo iniziato a lavorare molto spesso si dà per scontato e questo invece ci ricorda che siamo stati fortunati anche nei momenti in cui non ce ne accorgevamo oppure non so per quanto riguarda i desideri personali è bello fare un esercizio in cui sentiamo la gratitudine e la felicità di qualcosa che desideriamo ma che ancora non si è realizzato se mi seguite da un po' sapete che questo è anche l'obiettivo di ogni mia meditazione io medito proprio così perché ho visto che questo è il modo più giusto per arrivare a realizzare i miei desideri insomma un libro veramente molto interessante vorrei dirvi soltanto un paio di cose che vi convinceranno a comprarlo e a provare a fare questi 28 giorni di gratitudine questi esercizi io li ho fatti insieme a mia sorella io vivo una vita in cui lavoro molto su me stessa, sulla mia crescita personale e diciamo che ho una vita al momento piuttosto equilibrata e sono molto contenta di questo ma mia sorella stava vivendo un periodo veramente molto duro, molto pesante della sua vita ed ero convinta che dopo tre giorni di esercizi, perché un po' l'ho obbligata io a farli dopo tre giorni avrebbe mollato tutto invece si è reso conto fin da subito che qualcosa di bello stava arrivando nella sua vita grazie a questa gratitudine che riusciva a provare e quindi è andata avanti e ha fatto tutti e 28 i giorni insieme a me arrivati alla fine del percorso nel libro c'è scritto che possiamo poi concentrare le nostre settimane o i nostri mesi su una tematica particolare della quale magari sentiamo le esigenze in quel momento come può essere il lavoro, per l'appunto il denaro, l'amore eccetera ma io ho deciso di rifare tutto il percorso dall'inizio perché mi è piaciuto talmente tanto che ho pensato di renderlo ancora più parte della mia quotidianità beh anche mia sorella ha deciso di farlo insieme a me per una seconda volta e ha coinvolto anche una sua amica che era interessata vedendo quanto a mia sorella insomma fosse piaciuto e quindi ogni mattina io invio gli esercizi da fare a mia sorella la quale li gira poi alla sua amica quindi insomma si sta diffondendo quindi vuol dire che funziona quali sono stati i risultati su di me? i risultati sono stati principalmente due prima di tutto io sono molto più presente sono proprio presente nel qui e ora ed è una cosa che mi fa soffrire quando non c'è e che quindi io sento maggiormente come effetto positivo perché durante la giornata noto tutte le cose per le quali sono grata quindi mi immergo nel momento presente e questo mi permette di sentirmi nel qui e ora senza pensieri continuamente legati al passato o al futuro e il secondo lato positivo è stato che mi sono resa conto di riuscire a portare a termine tutti i miei impegni in una maniera molto più semplice e senza stress sapete che non amo diciamo riempirmi l'agenda di troppi impegni fino a soffocare però insomma la vita lo sappiamo com'è è piena in realtà di cose da fare e io mi sono resa conto che da quando faccio questi esercizi riesco a portare a termine tutti i miei compiti proprio perché sono più presente concentrata in quello che faccio lo riesco a portare a termine e sono grata di questo e la gratitudine è come una droga quindi ogni giorno se ne vuole di più perché si sente che ci fa stare bene bene ragazzi il video finisce qui io spero che vi sia piaciuto a me è piaciuto tanto parlarvi di questo libro di quello che mi ha trasmesso e fatemi sapere quindi se siete interessati se lo comprerete come sarà il vostro percorso di 28 giorni nella gratitudine e niente vi saluto e ci vediamo prestissimo con un altro video ciao